... Proseguono su iniziativa dell'Associazione per Santo Pietro le manifestazioni finalizzate a rilanciare l'area naturalistica della frazione. Nella sala convegni dell'Istituto per la Granicoltura della Sicilia si è svolto un convegno sul tema Inolio Veritas, che è stato promosso da Fabrizio Alparone, esponente dell'Associazione. Santo Pietro è un territorio che è ricco di coltivazioni di alberi di olivo e può esprimere anche in questo settore una buona opportunità per le aziende ma anche per i privati di mettere a regime anche la produzione di olive e di olio che hanno. Una produzione, quella dell'olio, che anche in questo settore si presta bene, si coniuga con quello che è un turismo basato sul settore dell'agricoltura. Inolio Veritas è quindi stato l'evento finalizzato a rilanciare le tecniche di coltivazione dell'olivo, la corretta molitura, i suoi metodi di conservazione e le procedure per ottenere oli di qualità. A margine del convegno è stato allestito uno stand nel quale è stata offerta la degustazione della cucia. L'iniziativa è stata curata dal presidente dell'Associazione ambientalista del ramato Renato Carella. Sicuramente lodevole, sicuramente di effetto perché ci riporta alla tradizione che è collegata anche con il discorso dei semi, dei frumenti antichi e del buon pane fatto nella modalità tradizionale, in questa occasione in cui l'olio comunque è al centro della scena. Grazie. Grazie. Grazie.